Allora, oggi siamo qua per imparare a mettere l'apparecchio. Guardate con attenzione. Allora, ve lo faccio anche vedere. È un apparecchio sotto che io userò. Allora, ci sono due buchini. E' una tua. Allora, devo infilarlo, questa punta qua, nel buchino esterno. Poi tiro perché deve fare che in modo tale questa parte sia attaccata. Poi tiro un po' perché la parte deve stare un po' attaccata. E ecco qua, l'apparecchio è messo. Oggi è stata una giornata un po' lunga perché abbiamo fatto imparare qualcosa perché se anche le vostre lezze hanno l'apparecchio così, potete speccarglielo. Buongiorno a tutti.